Se fissate i vostri obiettivi in modo approssimativo e il risultato è un fallimento, fallirete al di sopra del successo di tutti gli altri. Così si comincia il viaggio alla riscoperta di un mio personale mito, un narratore per immagini che sa come portarti in territori inesplorati e in mondi fantasiosi con rinnovata creatività. Se questo regista è la spina dorsale, poi le Wachowski in seguito diventeranno le estensioni di un cinema rivoluzionario, capace di generare spettacolo a partire dalle sequenze d'apertura fino alle risoluzioni finali. Creando film incredibilmente profondi in oltre 25 anni di carriera, Cameron ha un modo di connettersi con il pubblico a livello emotivo e di trasformare le sue idee futuriste in realtà. Ecco, con 75 vittorie e 81 nomination per le sue incredibili performance, i film di James Cameron sono eccezionali e lui può davvero essere considerato il re dei mondi. Creare per un suo piacere visivo, non rendere conto a nessuno dei propri traguardi se non per la propria soddisfazione personale e la rimozione di qualsiasi compromesso. Le premesse sono tutte qui, per poter cimentarci in un cinema che guarda il futuro, ma sempre con occhi sognanti. Gli occhi di un illustratore che anima le sue riprese, ma senza l'impiego di fasi descrittive e espositive che potrebbero disturbare il flusso di inventiva. Immaginatevi la battuta del mago di Oz, ho l'impressione che non siamo più in Kansas. La battuta principale che apre le porte verso la magica città di Smeraldo. Bene, applicatelo in ogni film che ci ha regalato James Cameron e l'essenza la possiamo trovare nello slancio verso l'impossibile, il non riproducibile concettualmente e registicamente che però trova la sua via per realizzarsi. Da Terminator in poi, Cameron ha sempre cercato di unire due generi come solo George Lucas ha saputo fare i tempi, ovvero la fantascienza e il fantasy. La modellazione e la progettazione di world building tipici di un'epopea fantasy, misto a tematiche e personaggi appartenenti all'universo sci-fi, che trovano un punto d'incontro nel cinema di Cameron. Quindi troviamo non solo un'apertura mentale verso strumenti che possono rinnovare il linguaggio cinematografico, che siano cineprese virtuali o effetti visivi fotorealistici, ma anche un nuovo modo di concepire storie universali, totalizzanti, che includano tensione, spaventi, senso di meraviglia, rischi da correre, decisioni morali e protagonisti inizialmente all'oscuro di tutto ciò che Cameron potrà fornirci nel corso delle sue tipiche due ore e venti, due ore e mezza di film. Si parte dall'idea che il protagonista adotti il punto di vista dello spettatore, come stavo dicendo, ignaro degli eventi più incredibili che si dipaneranno nello svolgimento. E parliamo della versione rivisitata di Ellen Ripley in Aliens, passando per John Connor in Terminator, così come il team della NaviSeal a bordo della piattaforma subacquea in The Abyss. Per poi arrivare a Jamie Lee Curtis in True Lies o alla coppia di Caprio Winslet a Sam Worthington in Avatar, un cast che deve reggere sulle spalle sia lo svelamento di scenari totalmente nuovi o che rinnovano il genere come l'action mirabolante di True Lies e al contempo devono mostrarsi interessati al cambiamento, alla nuova frontiera del cinema intavolata da James Cameron. Che siano robot, alieni, umanoidi, nativi del mare, l'iceberg del Titanic o i navi, con questi elementi si creano veri e propri punti di svolta che servono a sbloccare un set mai visto di effetti visivi, pronti a interagire con personaggi attori visibilmente sorpresi. Tutto ciò che ruota attorno alla cinepresa è frutto dell'immaginazione di Cameron. Ma l'impianto e l'impatto è reale, la reazione di fronte a queste apparizioni di creature, villain o set perfettamente ricreati è palpabile. È un rapporto concreto fra fruitore, traghettatore e creatore, che possiamo ritrovare solo in Peter Jackson, Robert Zemeckis o lo stesso George Lucas, che riprende la saga di Star Wars. Se parliamo specialmente dei primi dieci anni del 2000, dove la sperimentazione visiva era ai massimi storici per poi cambiare le sorti dei blockbuster moderni. Ma ritornando a James Cameron, come ha fatto a non sbagliare un singolo film, tralasciando la parentesi piragna paura che servì per sviluppare l'idea seminale di Terminator, con incubi ricorrenti da dopo il suo licenziamento dal sequel del film di Giudante prodotto in Italia. Non sbaglia perché è un calcolatore oltre che un inventore. Sperimenta prima su se stesso, decide come comporre una scena e come metterla su pellicola, cercando di capire prima di tutto se si sente lui stesso immerso e divertito dal risultato che si può ottenere. Un'autoanalisi imposta, come un tarantino, su quello che il pubblico potrebbe aspettarsi e sulla maniera di sovvertire prepotentemente queste aspettative. Un ingranaggio che continua a elaborarsi costantemente nel processo di Cameron, che porta dunque allo storyboard ricreato alla perfezione, allo scheletro del film che deve essere la presentazione delle scenografie, dei fondali, degli elementi di scena ricorrenti che possono valorizzare le interpretazioni una volta scritturati gli attori. Ovviamente come non menzionare i due documentari Ghost of the Abyss e Aliens of the Deep, oltre all'enorme contributo dato per le spedizioni marine, aprendo la strada a una nuova era delle esplorazioni scientifiche. Era assolutamente lunare, un luogo di desolazione totale. Descrive così James Cameron la discesa record di 10.908 metri sotto la superficie dell'Oceano Pacifico. Ai comandi del suo sommergibile Deep Sea Challenger, raggiunge così l'ultima frontiera del pianeta. Nel punto più profondo degli oceani, in aree mai raggiunte dalla luce, il mondo sottomarino nasconde ancora innumerevoli segreti. Vera fonte di ispirazione per un cineasta che ha reso questi segreti traducibili, degni di essere immortalati anche sul grande schermo. L'abisso non guarda dentro l'anima di Cameron. Lui ha già superato questo test. C'è bisogno di acquisire la potenza di questo abisso e integrarlo nel suo cinema. Ecco a dove siamo arrivati. Alla fase successiva degli incubi di Cameron quando ritraeve i suoi robot da combattimento in Terminator. E quindi l'ideazione di una nuova minaccia che, sì, potrebbe contrastarci, ma in verità è pronta ad avvertirci sul nostro futuro, ad accoglierci e comprendere la nostra condizione disastrosa, come i nativi del mare, in The Abyss o in Avi. E tra lo scontro-incontro fra fantasy e fantascienza, l'unione fra constatazioni scientifiche e creatività ai massimi livelli e personaggi che devono approcciarsi all'ignoto e all'abisso, e all'abisso che trova una nuova sistemazione nell'impianto visivo del regista, manca l'elemento che più di tutti rappresenta il suo cinema. Quello che più ha fatto storcere il naso, specialmente negli ultimi anni. Ovvero la sua tabella di marcia. Le opere che vengono rilasciate devono essere realizzate con criterio, ingegno, voglia di mettersi in gioco per più degli standard hollywoodiani di 5-6 settimane di riprese. Se, tematicamente, i film di James Cameron sono dedicati all'esplorazione del rapporto fra uomo e tecnologia, allora questo tema deve essere affrontato anche dietro le quinte, durante la realizzazione del film stesso. Nella sua poetica, le sovrastrutture intellettuali non devono mai spingere in secondo piano l'esperienza del piacere, l'impatto di catarsi quasi viscerali con quello che si guarda e che riappropria lo spettatore di un ruolo attivo di immaginazione. Come creare quella scintilla? Come raggiungere ancora quell'impatto emozionale dovuto alle immagini? Per trovare risposta bisogna attendere numerosi anni di progettazione e concepimento di idee che possano di nuovo funzionare al cinema. Perché James Cameron non potrà mai essere associato a un film destinato allo streaming. È un legame troppo importante quello che si viene a creare. Il cinema necessita dell'intervento di James Cameron e James Cameron si serve del cinema per trasmettere l'abisso dei suoi pensieri come esperienza terapeutica. Lo schermo è la sua fonte di salvezza e viene venerato come se fosse l'ottava meraviglia del mondo. Attraverso lo schermo raggiunge il suo pubblico e attraverso lo spettacolo generato dallo schermo ci riallineamo con l'idea di rifugio e di strumento di fuga dalla quotidianità. Una simbiosi che può risultare catartica, che porta ad una contemplazione comprensiva delle paure, delle colpe o delle passioni. Un biglietto per un film di Cameron è davvero quasi un processo di espiazione e liberazione prima di abbracciare una nuova forma di intrattenimento che sta per abbattersi su di noi. Ed è per questo che lo ritengo uno dei miei registi preferiti in assoluto, con l'apice raggiunto in The Abyss. Ha combattuto per due anni con preproduzione e riprese effettuate per poi presentarsi nel 1989 con un film assolutamente meraviglioso che riprende la confezione di incontri ravvicinati di Spielberg per trasferirci nelle profondità marine. Come ho già riportato, l'acqua è una visione della realtà alternativa per lui, un mondo dove il liquido rappresenta un filtro, una nuova interpretazione per la realtà cosciente e visiva. Il primo regista, questo che mi ha introdotto da piccolo al concetto di blockbuster con Titanic, ovviamente sia al cinema che con la doppia cassetta venduta mesi dopo la sua uscita nelle sale, e lui mi ha sempre stupito, lasciato sbigottito di fronte alle sue creazioni. In attesa di Avatar 2 non potevo più trattenermi. Eccoci con l'analisi, qui Antonio Cianci, raccata film, con il video su James Cameron ha finito. Fatemi sapere cosa ne pensate del video sotto nei commenti, vi aspetto. Seguitemi sui social, link in descrizione, e vi mando un saluto e un abbraccio. Carissimi seguaci da Rakata Film. Ciao a tutti, alla prossima!